Ti sto filmando. Lo fai tu adesso, eh? No, 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 David, non fare tonteria, vai su. Ai Dios mio, non sei la mia famiglia. Allo, 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 allo. No, 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 tieniti alla sbarra. Ah, ah! Allo, 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 allo. Do, ne, do, ne. Do, ne, uuuh, uuh, 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 uuh. No, no, no. Hati, haati. Adesso! 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 No, tieniti, 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 non fare il tonto. No, no, tieniti, 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 non fare il tonto. Non fare il tonto. Non fare il tonto. Non fare il tonto. Non fare il tonto.